alla fine cristiano malgioglio esce allo scoperto e lo fa all'improvviso in una recente intervista ha svelato chi gli ha rapito il cuore mi sono preso una cotta pazzesca mi sento esattamente come una ragazza al primo innamoramento come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dichiarazioni di cristiano malgioglio il cantante ha votato finalmente il sacco svelando un succoso retroscena riguardante la sua vita sentimentale lo scopo ovviamente ha fatto il giro del web rimbalzando da una parte all'altra della rete ed era abbastanza inevitabile che andasse così d'altronde sono anni ormai che malgioglio cerca di tenere un velo di privacy sulla sua sfera intima neanche i fan più sfegatati erano a conoscenza di questo dettaglio sul suo conto nel frattempo prova a tenersi impegnato e a non rimanere con le mani in mano il tour estivo procede a gonfie vele sono in giro come una trottola per tutta italia potrei fare tre serate una alle 20 una alle 22 e una alle 24 perché ad ogni mio concerto c'è il delirio di fan ha spiegato con un pizzico di ironia ai microfoni di ancronos cristiano malgioglio vuota il sacco chi lo ha fatto innamorare solamente qualche tempo fa ha presentato fernando ad amici di maria de filippi l'ennesima hit che ha infiammato l'estate cristiano malgioglio raggiunto dalla redazione di ancronos ha annunciato l'arrivo di ronaldo il rifacimento della stessa canzone in lingua turca che uscirà a settembre la versione turca di fernando è molto bella e particolare ho dovuto sudare lacrime amare perché cantare in turco è molto difficile ha spiegato malgioglio in turchia è ormai di casa soprattutto perché è lì che ha trovato l'amore sto vivendo una bellissima storia d'amore da ben quattro anni con un uomo turco molto intelligente e affascinante tra l'altro abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno ha spiegato e alla domanda sul perché abbia scelto un partner molto più giovane di lui ha risposto con sprezzante ironia perché quelli della mia età sono quasi tutti morti ovviamente la notizia ha fatto impazzire di gioia i fan che aspettavano da tempo aggiornamenti sulla sua vita sentimentale intanto in migliaia stanno accorrendo ai suoi concerti per il tour estivo l'agenda del cantante è fitta di impegni ho dovuto fare delle scelte poche cose per non strapazzarmi troppo